Perché ricorda, tu vali, gridalo insieme a me, io valgo! The things we can't ignore, you, sitting on the waterfront, for hours and hours... Buongiorno ragazzi! Che cazzo! Solo la massima motivazione ad agire può consentirci di raggiungere la vetta. E tu? Non li fai complimenti a tuo fratello? Devi promuoverci tutti agli esami. Questo è fuori discussione, scordatevelo! Abbiamo organizzato un piccolo incontro all'università, bisogna parlare ai giovani. Ho proprio voglia di divertirmi. Tu al cavolo! Mi stai finendo gli spiccioli. Si tratta di una vicenda primaria. E allora oggi dobbiamo domandarci cosa vogliamo fare del nostro futuro. Metti questo nell'impasto. Tanti anni di sacrifici, tanti anni di sacrifici, di studio. E ritrovarmi ad insegnare ad una massa di caproni. Non ce la faccio più. Tu hai scritto come presidente di seggio. Ci sono le elezioni per il nuovo preside di facoltà. Quel posto per me sarebbe la salvezza. E cos'hai fatto finora? Con che cazzo hai cenato? Con nessuno, cioè con i miei, con chi dovrei aver cenato. Tutto bene. E poi bisogna creare una situazione diversiva. C'è niente, lo sfoggi di me, capito? Io mi ammazzo. Osserva come ti trovo subito il peso di turma. Le cose sono molto cambiate, grazie a lui. Ma che diavolo hai combinato? Ed è proprio questa la mia missione. Cambiare una volta per tutte questo paese. Intanto io vado a fare un giro negli altri seggi. A voi studio. Tu non riesci neanche ad immaginare che cosa c'è dietro a tutto questo. No, non possiamo avventarci l'assentimento. Ma che fai io? E Rebecca, aspetta un attimo, devo telefonare. E dove te ne vai? Signorina! Lascia, che io ti guidi. Arrivederci! Arrivederci, onorevole!